Cari sorelle, cari fratelli, care amiche, cari amici, buona domenica. Noi siamo qui riuniti, noi siamo qui raccolte sotto lo sguardo del Signore, colui che anche oggi si dà per noi e ci incontra nella sua parola. Amen. Gesù ha detto io non ti prego padre di toglierli dal mondo ma che tu li preservi dal male. Ci raccogliamo in preghiera. Nostro Dio spandi il tuo spirito su di noi, sui tuoi discepoli e le tue discepole nel mondo. Vinci le nostre resistenze nel riconoscere la tua chiamata. Vinci i nostri timori a riconoscere il male che tocca gli umani nel mondo. Vinci le nostre esitazioni ad annunciare la tua parola che libera e consola. Fa di noi dei testimoni fedeli. Amen. Gesù ha detto ai suoi discepoli terrorizzati dalla tempesta, dov'è la vostra fede? Dio chiede anche a noi, in mezzo alle nostre tempeste, dov'è la vostra fede? Ci presentiamo perciò a Dio nella preghiera. Deponiamo davanti a lui le nostre vite nella tempesta e gli chiediamo di annunciarci il perdono e la riconciliazione. Preghiamo. O Dio, mediante la tua misericordia, rafforza noi che siamo esposti alle violente tempeste delle ansie e delle tentazioni. Aiutaci contro ogni nostra negligenza e viltà e difendici dall'inganno del nostro cuore bugiardo. Soccorrici, te ne supplichiamo e portaci in salvo nella pace e nella gioia. Amen. È scritto, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma riceva vita eterna. È per amore del mondo che Dio si è donato non solo a noi discepoli e discepole ma a ogni creatura. In lui troviamo perdono e amore senza fine. Amen. Egli è Dio vero di tutti, Signor, riconosciamo la sua bontà. Egli ci guida con amore verso l'eterna e la sua costante fedeltà. Leggiamo nel libro del profeta Giona, al primo capitolo. Il Signore parlò a Giona, figlio di Amittai. Va a Ninive, la grande città, e parla chiaro ai suoi abitanti. Io so che è gente perversa. Ma Giona non volle saperne e per fuggire lontano dal Signore decise di andare dalla parte opposta, verso Tarso. C'era a Giaffa una nave diretta verso quella città. Egli pagò il prezzo del viaggio e si imbarcò con i marinai. Ma il Signore mandò sul mare un forte vento che scatenò una grande tempesta. Tutti pensarono che la nave stesse per sfasciarsi. I marinai ebbero paura e ciascuno chiese aiuto al suo Dio. Per non affondare gettarono in mare il carico della nave. Giona invece era sceso nella stiva e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse, come? Tu dormi, alzati, prega il tuo Dio. Forse avrà pietà di noi e non moriremo. I marinai si dissero l'un l'altro. Tiriamo a sorte per sapere chi di noi è la causa di questa disgrazia. La sorte indicò Giona. Allora gli chiesero, dunque sei tu la causa di questa disgrazia? Che cosa fai qui? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? Qual è il tuo popolo? Io sono ebreo, rispose Giona, e credo nel Signore, Dio del cielo, che ha fatto la terra e il mare. Quindi raccontò che si era imbarcato per fuggire lontano dal Signore. Gli uomini si spaventarono e gli dissero, hai commesso un'azione terribile. Intanto la tempesta aumentava. I marinai gli chiesero, che cosa dobbiamo fare di te perché il mare si calmi e noi possiamo salvarci? Giona rispose, gettatemi in acqua, così il mare si calmerà e vi salverete. So che questa tempesta vi travolge? Per causa mia. I marinai invece, remando con tutte le loro forze, tentarono di portare la nave a una spiaggia, ma non ci riuscirono perché la tempesta infuriava sempre di più. Allora si rivolsero al Signore. Ti preghiamo, Signore, se quest'uomo morirà, non punirci come se avessimo ucciso un innocente. Tu, Signore, sei responsabile di tutto questo. L'hai voluto tu. buttarono Giona in mare e la tempesta si calmò. Ma poi i marinai ebbero così paura del Signore che gli offrirono sacrifici e promisero di servirlo. Per ordine del Signore un grande pesce ingoiò Giona ed egli rimase nel suo ventre tre giorni e tre notti. Cara comunità, riunita nell'ascolto della parola, nella partecipazione a questo culto, a Pentecoste, appena due domeniche fa, abbiamo celebrato lo Spirito Santo e ammirato la forza che lo Spirito Santo ha dato agli Apostoli di uscire dal chiuso della loro stanza in cui si erano rifugiati per raggiungere una piazza pubblica e parlare delle meravigliose cose di Dio e farsi capire da popolazioni di cultura e lingue molto diverse. Ad appena due settimane dai nostri festeggiamenti oggi incontriamo un profeta. Un profeta che viene chiamato ad annunciare in pubblico ad un'intera società la parola di Dio, ma non c'è nessuno slancio, anzi questo profeta e tenta di nascondersi. Dio gli dice vai in Iraq e lui si imbarca per la Spagna. Dio gli dice vai a Oriente e lui se ne va ad Occidente. Ma può un profeta, un annunciatore della parola di Dio fare così? Scappare, nascondersi. Sì, può succedere così se la parola che deve portare da parte di Dio è parola scomoda perché è parola di giudizio. Sì, se questo giudizio che viene da Dio deve essere rivolto ad una città potente come era Ninive, capitale della Siria, all'epoca rappresentante degli imperi totalitari dell'antichità. Sì, un annunciatore della parola può fuggire davanti a un sistema troppo potente, estraneo. È come se uno avesse ricevuto nel 1938 l'incarico da Dio di andare a Berlino e annunciare nella pubblica piazza, non nella clandestinità ma proprio nella pubblica piazza che il nazismo, le persecuzioni e lo sterminio programmato per gli ebrei erano contro il progetto amorevole di Dio per il mondo. Capite bene perché Giona scappa, perché ad ogni possibile terra sceglie il mare? Perché sceglie di correre verso l'altra parte del mondo, ai margini del mondo allora conosciuto. Ma correre dal lato opposto rispetto a quello consigliato e ordinato da Dio significa, secondo questo testo, scappare da Dio stesso, provare ad andare lontano da Dio. Sarà stata la parola scomoda ma anche lo scetticismo di Giona sulla possibilità che qualcuno si converta, la paura non solo dei potenti ma anche di tutte quelle persone così abituate al sistema sociale della loro vita. Forse il paganesimo lo ha spaventato o anche di essere ucciso. così Giona fa il movimento contrario di quello degli apostoli a Pentecoste. Si nasconde, si chiude nel mutismo, non va a denunciare il male commesso a Ninive, fa finta di niente. L'illusione che per vivere è meglio, si debba far finta di niente, la paura di una parola evangelica che chiami alla conversione dal male, tutto questo spinge a tacere, cioè a fuggire dalla vocazione che viene da Dio. La viltà davanti al male non è solo della società ma è anche della Chiesa, dei discepoli e delle discepole. Eppure, quella parola che invece vogliamo dire e che diciamo spesso, parola di liberazione e di consolazione, che ci sentiamo di dover pronunciare come cristiani e cristiane oggi, in un mondo assai malato, questa parola che ci piace non può evitare di affrontare la parola di Dio come smascheramento del male. Nel silenzio contro il male, la parola della speranza e della liberazione non è che un vago discorso religioso, è suona falsa e irreale. Però il progetto di Dio è inarrestabile. Così per Giona arriva la tempesta che blocca il tragitto della nave, minaccia addirittura di distruggerla e interrompe la fuga di Giona. E ora tocca proprio a Giona sperimentare che la liberazione che viene da Dio nasce da un'esperienza del male da cui devi essere liberato e che può toccare proprio a te. E l'unica parola che hai è quella delle invocazioni a Dio perché te ne liberi. Ecco, ciò che la parola di Dio ha per noi questa domenica. Noi siamo inviati nelle nostre società non semplicemente a dire parole di vaga consolazione, parole di una speranza inefficace, parole che già conosciamo tra noi. Noi siamo tentati di non annunciare la buona notizia perché siamo tentati di tacere il male da cui Dio vuole liberarci e così risultiamo inefficaci nell'infondere speranza. che il Signore accolga la nostra invocazione quando diciamo con le parole che ci ha insegnato Gesù non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. E nella messa è grande E nella messa è grande Ma pochi sono ancora Sono pochi gli operai Eccomi, eccomi, mandami Eccomi, eccomi, mandami Nella messa è tua, Signore Eccomi, mandami Siate i miei testimoni 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 Fino alle estreme terre Portate l'Evangelo Eccomi, eccomi, mandami Eccomi, eccomi, mandami Col messaggio tuo, Signore Eccomi, mandami Chi vuol fede Chi vuol fede il seguirmi 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 Serva agli afflitti poveri Amando del mio amore Eccomi, eccomi, manda me, eccomi, eccomi, manda me, nel servizio tuo d'amore, eccomi, manda me. Ci raccogliamo in preghiera. Nostro Dio, abbiamo molto da chiederti, ma oggi voglio chiederti per me, ma anche per tutti e tutte noi. Ti chiediamo che il dolore non ci lasci indifferente, che la morte non ci colga vuoti e sole senza aver fatto ciò che era necessario. Molte sono le cose che ti vogliamo chiedere, ma questa mattina ti chiediamo solo questo, che l'ingiustizia non ci sia indifferente, che non mi schiaffeggino l'altra guancia dopo che un colpo ha già cambiato il mio destino. Vorremmo chiederti tante cose, ma ti chiediamo una sola cosa. Ti chiediamo che la guerra non ci sia indifferente. È un mostro, grande e schiaccia fortemente tutta la povera innocenza della gente. Abbiamo tante cose da chiederti, ma questa mattina ti chiediamo solo questo, che l'inganno non ci sia indifferente. Se è un traditore, ha più potere di tanti altri, che costoro non lo dimentichino facilmente. Tante cose vorremmo chiederti, ma questa mattina ti chiediamo solo questo, che il futuro non ci sia indifferente. Disperato è colui che è costretto a vivere in esilio. Nostro Dio, ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera. Trasformaci in tuoi discepoli e discepole fedeli. Ogni cosa noi ti chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a pregarti così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché a te appartengo nel regno, la potenza, la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E ci salutiamo non solo pensandoci fraternamente e affettuosamente, ma ci salutiamo invocando e ricevendo su di noi la benedizione che viene dal Signore. Lì Dio della speranza vi riempia di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, affinché abbondiate nella speranza, mediante la potenza dello Spirito Santo. Amen. 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 Alla prossima